Ciao, ciao amici delle antiche terre del Guercino e di partecipanza, oggi è veramente venuta tanta tanta acqua, guardate qui, qui nel nostro orto, oggi pomeriggio veramente è venuta giù tanta acqua, adesso non so quanti millimetri ne sono venuti perché qui in azienda, qui sul campo non abbiamo il misuratore della fluorometro, però occhi croce, qui in Capezzagna non abbiamo mai avuto un ristaglio d'acqua dopo l'acquazzone, è veramente tanta acqua, adesso speriamo che, qui sto inquadrando le concomere, speriamo che reagiscono bene, sembra che hanno, ma quello che, adesso vediamo là, c'è un altro ristaglio d'acqua, guardate là, ma quello che fa più, fa più, preoccupa di più è che la temperatura si è abbassata, si è abbassata di molto, fortunatamente le piante hanno già superato, hanno già tecchito, perché noi non avendo, come sapete, trapiantato sotto telone, senza nessuna, diciamo così, protezione, perché le temperature minime, massime, minime, erano già superiore ai 10 gradi, però questi sbalzi non fanno, non fanno bene, vabbè, comunque adesso, vediamo, adesso le previsioni danno acqua fino, danno qualche acquazzone fino a domani, poi dovrebbe rimettersi in sesto e quindi si dovrebbe ripartire con una stagione più consente, diciamo così, al momento. Vabbè, scusate l'inquadratura, ma lì fuori sta cominciando a piovere, sono in macchina e niente, facciamo una zoomata, una zoomata sui fagiullini, i fagiullini, ecco, i fagiullini li ringrazio, i fagiullini hanno sempre bisogno di acqua e con un'acqua che è venuta oggi pomeriggio sono contenti, grandi fagiullini, ma anche le patate, ma anche le patate, non dimentichiamoci le patate, guardate qui, stanno veramente, quest'anno abbiamo fatto una semina veramente in emergenza, in ritardissima, su un terreno lavorato non in tempera, quindi era molto, ancora molto granuloso, però diciamo così che sono contento da come sono, da come sono, stanno arrivando, stanno arrivando. Ecco, l'unica cosa che dobbiamo fare, appena si riesce a andare, andare, andare sul campo, è di rincalzare un po' con la terra, con il suo alcatore, dargli un colpetto di qua e di là per dare di terra alla pianta. Dopodiché sono veramente ottime, avremo delle patate ottime quest'anno. Ciao ciao!